Buonasera, bentornati alla fumetteria in tv, siamo sempre in compagnia di Cristina Piazza di Crazy Comics and Games di Varese che ci porta sempre un sacco di fumetti bellissimi e di manga bellissimi e di altre bellissime cose, fra cui me, eccoci qua la parola del giorno è bellissima perché questo manga è bellissimo, è una storia molto carina di una famiglia, di una mamma con i suoi due figli di cui uno adolescente che ha appena iniziato le superiori, il loro papà è sempre, spesso via per lavoro insomma fa un lavoro impegnativo, si è dovuto trasferire, quindi questa signora, questa mamma è molto carina con i suoi figli, molto amorevole e loro, sono anche loro due bravissimi ragazzi, li aiutano nelle faccende domestiche sono studiosi, insomma sono due figli perfetti, lei li ama, li ama tantissimo e uno il più grande di questi ragazzi, insomma appunto essendo adolescente inizia un pochino a sentire, come dire, il richiamo della foresta, insomma inizia a sentire i primi sentimenti le prime storie d'amore e anche insomma le prime attrazioni, le prime pulsioni, insomma proprio l'emozione la forte emozione dell'adolescenza lui è molto carino, però è anche un po' goff, un po' buffo ogni tanto fa delle, come dire, fa delle piccole gaff che lasciano intuire alla mamma che questo suo amore, questo suo partner segreto sia in realtà un ragazzo la mamma è assolutamente tranquillissima, perché? Perché lei appunto adora i suoi figli trova che il suo figlio sia troppo carino, ma vuole lasciargli lo spazio e il tempo per decidere lui da solo di fare coming out, insomma non vuole essere, non vuole stargli addosso lui non ne parla apertamente, però sono, insomma diciamo che è un susseguirsi di gag tenerelle in cui lui cerca di, sbaglia i pronomi, insomma, cerca di dire no perché è il mio ragazzo, ragazza, così, insomma, e lei un po', insomma è dolce lui, no? è carino, carino, l'editore è Star Comics, è il primo volume un modo molto carino, leggero, divertente, ma anche, insomma, spesso di trattare il tema del coming out quindi molto, molto, molto carino a volte può essere difficile molto difficile per quanto la mamma, sì, appunto, per quanto anche nelle famiglie più aperte c'è sempre, insomma, un po' di paura a volte sono un po' più in figlia, avere più paura rispetto ai genitori alle volte, alle volte, sì, decisamente diciamo che è un manga, secondo me, carino perché molto spesso nei manga viene affrontato il tema del coming out in maniera, diciamo, un pochino più, più tragica perché chiaramente ci sono anche storie di tipo diverso quindi ci sono anche storie che vengono vissute dai protagonisti in modo molto diverso ma questo, secondo me, è un buon è veramente un buon modo anche per vedere, insomma, un po' di allegria in questa situazione diciamo che alla fine vince l'amore vince l'amore, l'amore l'amore vince su tutto benissimo e l'amore vince su tutto e anche l'amore per i fumetti che il più grande editore italiano ha sempre dimostrato in 80 anni di fumetti perché la Sergio Bonelli editore quest'anno compie 80 anni è più vecchia di me addirittura potrebbe anche aver già fatto il vaccino tra l'altro ecco e lo fa chiaramente festeggiando con gli appassionati lettori una delle varie iniziative che ci saranno quest'anno proprio per festeggiare gli 80 anni della Sergio Bonelli editore è quella della collezione di medaglie celebrative io adesso qua vi mostro il raccoglitore questo qua è il raccoglitore che troverete per collezionare le 23 medaglie ne abbiamo tra l'altro anche una in omaggio che è curiosa perché è la medaglia di Furio Furio nessuno sa chi è ma è stato il primo eroe uscito proprio per la Sergio Bonelli editore che prima aveva un altro nome era un'altra casa editrice era un'altra cosa ma nel 1941 diventa Sergio Bonelli editore ufficialmente e comincia a diventare questa meravigliosa casa piena di avventure di storie di personaggi favolosi vi faccio vedere anche due volumi di quelli celebrativi che usciranno per tutto il mese di aprile e per tutto il mese di maggio quindi fate tranquillamente in tempo a trovarli vi faccio vedere Zagor ed Ampir e come vedete è una cosa altrettanto interessante oltre ad avere le famose monete di cui parlavo prima anche la grafica delle copertine è stata modificata per questa per questa occasione in modo da far combaciare la grafica fare una grafica coordinata quindi abbiamo i personaggi in tutte le copertine di queste uscite saranno così i personaggi in primo piano con una parte colorata e nello sfondo così così questo tonalità di azzurro incostrato l'ambientazione è classica quindi è anche bello da collezionare le varianti delle copertine sono molto carine sono proprio belle le monete sono di fatto bellissime le monete sono molto belle rappresenteranno molti dei personaggi principali ma anche alcuni cattivi e alcuni comprimari di quelli più amati sono 23 medaglie come vi dicevo si parte con Giulia poi Zagor Dampir addirittura il comandante Mark torna Mephisto Kit Carson Dragonero Martin Mister Nathan Never Tiger Jack pensate Dylan Dog ovviamente poi abbiamo Chico Ken Parker grande ritorno anche lui Tesla e Kurjak Piccolo Ranger Tex Gmore da Dragonero Java da Martin Mister figlio di Kmerl Lex Wheeler Keith Wheeler Mister No e Graucio quindi tornano tanti personaggi 22 più una medaglia da collezionare tanti auguri a Sergio Bonelli editore e grazie per tutto quello che ci dai ma andiamo andiamo avanti passiamo invece spostiamoci negli Stati Uniti dove Donny Cates che è uno sceneggiatore di grande spessore secondo me scrive questo volume dal titolo Buzz Kill ora io vi racconterò a grandi linee la trama la trama è questa c'è un uomo che acquisisce i superpoteri quindi diventa un supereroe solo quando beve tantissimo in sostanza lui si sbronza e invece di diventare uno sbronzo come uno sbronzo qualunque lui diventa un supereroe si trasforma proprio anche fisicamente divengono questi superpoteri che è un po' probabilmente quello che pensano tutte le persone che si ubriacano a un certo punto però invece con lui succede davvero esatto quindi però dopo insomma dopo tanto tempo dopo questa carriera di supereroe dopo aver fatto anche dei supererrori perché insomma comunque chiaramente nel momento in cui grandi poteri e anche grandi responsabilità ti capita di fare magari una cosina sbagliata forse perché hai un po' esagerato con la birretta e insomma il problema diventa grande quindi questo quest'uomo decide di smettere di smettere di bere di smettere di dare un taglio alle sue dipendenze sapendo che questo gli impedirà per sempre di tornare ad essere il supereroe per cui conventissimo lui va dagli alcolisti anonimi insomma un po' controvoglia un po' inizia a presentarsi però cosa succede quando tu sei un supereroe e quindi hai una serie di super cattivi che ti vogliono uccidere e stare sempre senza i tuoi poteri può essere insomma un po' pericoloso e quindi c'è questa c'è tutta questa come dire questa ambivalenza ho detto una parola ambivalenza signori di lui che deve decidere se se vivere se dare una insomma una sistemata alla sua vita decidere di essere reinserito nella società come un brav'uomo e perdere così i suoi poteri ma anche salvarsi d'altro canto perché va bene supereroi però se bevi tutta la vita magari poi a certo il conto ti si presenta appunto oppure se dire vabbè non importa cioè mollerò questa cosa mi sacrifico mi faccio un bel gin tonic e vado a salvare qualcuno e a combattere qualche cattivo detta così sembra una cosa diciamo un po' un po' superficiale in realtà diciamo che tra le varie botte che si vedono all'interno di questo di questo volume si tratta un argomento molto molto particolare è quello delle dipendenze che è quello del sentirsi insomma su un gradino più alto del mondo quando si abusa di diverse cose quando in realtà si è da tutta altra parte molto bello secondo me mi è piaciuto anche molto il disegno mi è piaciuto molto il fatto che appunto per portare avanti questa cosa dello smettere di bere ci sia un apri bottiglia il regalo questo per aiutarvi a capire se dopo tante birre aperte siete riusciti a diventare dei supereroi o no qui lascio a voi si può aprire anche la cedrata la cedrata perché no sì assolutamente mi piace un sacco la cedrata la spuma nera il ginger il ginger meraviglio tutto il bevante da anziani da anziani dall'anziani dell'oratorio sono un po' quelle che smetti di bere dai 20 agli 70 anni ma che buone a me piacciono tra l'altro è ricominciato da poco benissimo e io invece vi presento per concludere una cosa per studiare se siete dei secchioni come me vi consiglio il giapponese coi manga ideogrammi e qua andiamo a vedere proprio come si fanno i kanji la lingua giapponese è particolare soprattutto la scrittura abbiamo una parte la scrittura che può essere sillabica quindi con degli alfabeti che sono iragana katakana uno puramente giapponese più tondino l'altro di origine cinese un pochino più appuntito che si usano spesso appunto nei titoli proprio dei manga perché hanno anche questa forma tutta carina che servono per tradurre le parole inglesi esatto e poi invece i kanji che sono gli ideogrammi veri e propri ideogrammi che quindi rappresentano dei concetti delle figure particolari quindi questo questo manuale vi introduce un po' a questi ideogrammi non serve sapere già il giapponese o meglio è meglio se un pochino di iragana di katakana magari ve lo studiate già però non serve perché comunque lo studio dei kanji è molto affascinante perché vi fa capire come nasce una scrittura di questo tipo perché ogni segno ha un suo significato ha un suo senso e poi combinato con gli altri segni va a creare dei concetti delle parole più complesse molto bello tra l'altro viene presentato in un modo tutt'altro che noioso perché sotto ogni parola come vedete c'è intanto c'è la traduzione c'è la la scritta in iragana e katakana quindi scrittura sillabica il modo in cui deve essere disegnato il kanji perché va fatto ogni tratto ci sono delle direzioni e va fatto delle direzioni viene tutto spiegato benissimo e poi c'è una vignetta con un manga con la traduzione tutto spiegato quindi è anche molto carino molto divertente chiaramente è una una materia abbastanza complessa perché i kanji sono tantissimi e fate conto che comunque uno studente in Giappone ne impara circa duemila durante tutta la sua vita ma ne bastano mille per leggere un quotidiano quindi ce la possiamo fare per non dimenticarsi di loro leggono continuamente perché insomma è una cosa che fa anche bene è una cosa che fa anche bene che dovremmo fare anche noi forse di più per non scordarci l'alfabeto sono alcuni e quindi guardate è un bel modo di impararlo perché perché il giapponese è veramente complicato cioè ci vuole grande ma anche molto molto affascinante veramente molto di corsi concentrazione sì bisogna essere determinati bisogna essere un po' zen e conventissimi molto bello molto affascinante e sperando che voi amiate studiare una nuova lingua aspettiamo la prossima settimana giovedì alle 21 su rete 55 con la fumetteria in tv studiate leggete buonasera grazie a tutti Grazie per la visione!